molto semplificata della realtà ha una grande presa sull'opinione pubblica e il problema è che queste società più chiuse possono rappresentare una minaccia anche per i valori democratici per cui tutti quanti noi lavoriamo e ci spendiamo. Si parla purtroppo in maniera prevalente di migrazione in termini di caos, di minaccia, di invasione e di conseguenza le politiche che sono considerate accettabili sono quelle di chiusura e di soluzioni sicuritarie per il nostro sistema sociale, tutte soluzioni che per noi non sono accettabili. È il motivo per cui ci troviamo qui oggi pomeriggio ed è anche il motivo per cui per tutti ragionare sulle narrazioni è diventato centrale. È tutto un grande problema di schemi mentali, dei punti di vista che adottiamo e quindi delle narrazioni che accettiamo nel nostro mondo per interpretare la realtà. Il problema è che questi schemi mentali sono spesso innescati anche semplicemente da un'immagine semplicistica o una semplice parola. Ecco perché è centrale partire dal linguaggio ed è proprio su questo tema che quindi a questo punto darei inizio ai lavori di questa serata invitandovi a lavorare insieme a noi con un esercizio dividendoci in quattro stanze o classi e ragionando insieme facendo una lista di quelle che sono le parole, i linguaggi che sono utilizzati maggiormente intorno a noi per descrivere la realtà delle migrazioni. Quindi vi invitiamo a entrare nelle stanze che credo siano automaticamente generate dal sistema Nespa e noi vi seguiremo nel cercare di raccogliere le vostre indicazioni rispetto appunto ai linguaggi, alle parole, a quali problemi innescano e quali possibili soluzioni possiamo pensare. Mattia a questo punto se sei d'accordo? Sì, una cosa sola, io ho avviato la registrazione, è un problema per qualcuno? No. Ok. Adesso abilito le stanze allora. Ci ritroviamo entro le 19. Che sarebbe utile se il portavoce dei quattro gruppi facessero un brevissimo riassunto per rendere partecipi tutti di quanto è stato detto. Comincerei col gruppo 1 di cui non so chi fosse il coordinatore ma insomma autodenunciatevi. Vai Mattia. Sono io? Ok. No, io non sapevo che fosse il gruppo 1. Comunque va bene. Sì, no, rispetto appunto a questa, alla tematica della narrazione, beh diciamo che sono uscite due cose molto importanti. Innanzitutto è la narrazione rispetto alla concezione che si ha della migrazione, ovvero molto spesso ci si concentra e ci si, naturalmente a livello di opinione pubblica si parla, dell'emigrazione come diciamo l'invasione piuttosto che i migranti rubino il lavoro o viaggino senza biglietto all'interno dei mezzi pubblici. Tuttavia una cosa interessante che è uscita fuori è di fatto però la dialettica che poi si consuma all'interno dei social media, no? Che diciamo quello che è uscito fuori è che di fatto poi una bugia, chiamiamola così, si è ripetuta più volte diventa un po' verità e questo va ad intaccare di fatto poi la narrazione del tema della migrazione. Naturalmente lo sviluppo e la presenza dei social all'interno delle nostre vite quotidiane ha amplificato e ha accelerato questo processo anche di polarizzazione come appunto si parlava, va a alimentare una parte dell'opinione che hanno i cittadini e opinione che, e questo è il secondo tema che è un po' uscito, che di fatto molto spesso è calato direttamente dall'alto. Cioè cosa si intende? Che molto spesso questa polarizzazione invece di essere diciamo in un certo senso concepita come spesso ci si dice, concepita già presente all'interno della società di fatto però questa cosa viene calata un po' dall'alto e molto spesso si fa ad esempio dei personaggi politici o piuttosto che anche dei mass media in generale, chi ha visibilità comunque in un certo senso rispetto a queste tematiche. Poi questa polarizzazione si alimenta anche in realtà, e qui faccio nomi e cognomi in un certo senso, ad esempio che ci ha fatto Ilarina di Caritas che nonostante la Caritas sia in Italia presente da decenni, si abbia un ruolo centrale nell'aiutare più deboli, siano essi italiani che stranieri, beh di fatto molto spesso la si considera come uno strumento funzionale soltanto alla parte dei migranti e quindi diciamo che poi va ad alimentare in un certo senso quel prima gli italiani che ormai è purtroppo diffuso in molte, nella nostra realtà. Questo è quello che è diciamo fuoriuscito principalmente dal mio gruppo. Grazie mille Mattia, quindi ci appuntiamo infatti l'accelerazione di questa polarizzazione dovuta ai social media e di quanto il cattivo esempio anche di chi governa e potrebbe aprire un linguaggio nuovo invece contribuisca a questa chiusura di mentalità. Passerei al gruppo 2, scusatemi, anche in questo caso non so chi fosse il coordinatore per cui... Andrea? Io? Bene. Allora gruppo 2, in sintesi ci siamo scambiati queste cose. La prima è che l'utilizzo di un linguaggio abbastanza pesante eccetera, insomma lo si percepisce di più o comunque non lo si intende ancora, però lo si capisce un po' nei primi anni di accoglienza perché il fatto di non parlare bene l'italiano e il fatto di non capire quello che ti dicono gli altri è un muro inizialmente e questo fa aumentare questa idea anche di divisione, no? Come gli altri ti considerano le parole che usano. Man mano che si apprende di più l'italiano e si conosce di più il contesto e l'ambiente si è anche più capaci in qualche maniera di rispondere, di tenere il punto, di farsi rispettare e di accettare alla fine che ci sono delle persone che per mentalità o per posizione la pensano purtroppo in una maniera diversa. Qualcuno ha detto che questo è peggiorato nell'ultimo periodo, un'altra persona ha detto che nel suo caso insomma invece questo rimane abbastanza stabile come negli altri precedenti anni. Un'altra cosa che è uscita e cioè che ci sono delle persone italiane che non riescono ad avere un rapporto diretto, e quindi usano quelli che sono mediatori culturali o comunque attivisti che lavorano da tanti anni con migranti come delle persone che hanno un rapporto migliore, si fanno capire meglio e quindi vengono coinvolte insomma in un dialogo che non esiste e che continua a essere separato perché queste persone non sono ancora capaci di rapportarsi direttamente con le persone immigrate sul loro territorio e quindi continuano a rimanere insomma queste divisioni e questi muri. E' molto importante e interessante anche la distanza che si crea quando non si parla la stessa lingua, quindi cercare anche di trovare metodi per superare questo tipo di limite e di ostacolo. Vado io per il gruppo 3, questa volta lo so chi è il portavoce, ero io, quindi vi racconto brevemente che cosa ci siamo detti, ma c'è un punto molto interessante con il quale è partito proprio il gruppo e già c'è stata una divisione fra due tipi di linguaggi. Un linguaggio subito che è quello della provocazione, è un linguaggio che cerca lo scontro e che si basa soprattutto su pregiudizi e su luoghi comuni, quindi questo è un elemento problematico perché per risolvere lo scontro si fa riferimento a parole che sono di giudizio e spesso sono parole che vengono utilizzate in maniera offensiva, ma non soltanto per indicare una persona con la quale si ha a che vedere, ma l'intera categoria dei migranti, quindi qualcuno diceva usano la parola negro per parlare di persone che non sono di qui, ma che sono povere, ma che potrebbero venire da qualunque parte del mondo, ma sono i diversi, quindi l'alterità. A questo linguaggio subito però si aggiunge anche un linguaggio agito e si è parlato per esempio di come molti migranti fanno riferimento ai propri datori di lavoro come padroni e Margaret ci ha detto una cosa molto interessante, ha detto dobbiamo superare anche la colonizzazione della nostra mentalità, quindi anche un lavoro sull'autorappresentazione e sul racconto del mondo circostante. Sono due elementi molto importanti. Detto questo, il punto di riferimento rispetto all'ostacolo che è stato spesso ripetuto è la mancanza di conoscenza della realtà migratoria e delle persone. Possiamo parlare di ignoranza, possiamo parlare di giudizio, come ci ha detto una giovanissima partecipante del gruppo, Giorgia, la più giovane, una diciannovenne, che quindi... che salutiamo, ciao Giorgia, e che tra l'altro ci racconta di quanto lo stigma sia passato anche alle nuove generazioni che non hanno fatto necessariamente il viaggio migratorio, ma si portano dietro questo pregiudizio, pur essendo totalmente italiani e totalmente inseriti. Quindi a fronte di questo problema della mancanza di conoscenza, la soluzione che è stata portata esattamente come diceva Andrea, è proprio quella di lavorare maggiormente alla presenza di figure ponte. Possono essere professionisti come mediatori culturali o persone come, ci hanno detto sia Garpinder che Margaret, che nella loro vita hanno fatto da ponte perché si trovavano proprio in quella situazione, quindi persone che vogliono lavorare per la coesione sociale e che riescono, diciamo così, a colmare questa distanza di conoscenza. Quindi due punti fondamentalmente, linguaggio subito e agito e la possibilità di superare questi ostacoli attraverso dei professionisti, le persone ponte, diciamo. A questo punto passerei al gruppo 4. Rocco, aiutaci con il coordinatore. Sono io, Tana. Stefano, sì. Il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro legato direttamente alle parole. Quindi siamo andati a cercare delle parole che potessero in qualche modo rappresentare le narrazioni che si intrecciano sul tema delle migrazioni. Cerco, e qua chiedo scusa al gruppo, di riassemblarle in modo da creare un piccolo racconto. Per partire da due parole che sono state dette separatamente ma che probabilmente inquadrano un momento che è ondata ed emergenza. Quindi questa presenza nel linguaggio costante di un'emergenza. E dove c'è emergenza spesso, no, spesso. Non c'è una possibilità di pianificazione, non c'è una possibilità di azione strutturale. Ecco, purtroppo sotto emergenza spesso si è completamente anacquata qualsiasi politica dell'accoglienza. E qui proprio il tema che è uscito, la parola che uscive è accoglienza. Accoglienza è il suo alter ego, il rispengimento. Queste due facce che in qualche modo, queste due parole che descrivono la situazione odierna. Accoglienza è il rispengimento però che effettivamente si integrano in qualche modo sul discorso del lavoro. Lavoro non dignitoso ma anche lavoro come competizione con il lavoro degli italiani. E qua lo sottolineo proprio perché c'è stato questo collegamento con la parola competizione. Quasi che oggi il linguaggio sull'emigrazione sia una gara, no? Troppo spesso sentiamo prima gli italiani. Ecco, questa innovazione, questo peggioramento del linguaggio in una gara per chi possa prendersi un pezzettino di diritti. Quindi competizione e poi ovviamente questa legale-illegale e quindi questa sottilissima purtroppo linea di cosa finisce nell'illegale e spesso legato proprio al lavoro. Non come ultima ma effettivamente trasversalmente anche il tema religione e la confusione, il superutilizzo, la superfetazione di questa parola, superutilizzo direi proprio, dei valori religiosi sia nella forma di difesa, l'identità retta da valori cristiani e dall'altra parte sia in spesa in qualche modo e quindi queste religioni che devono colonizzare e che ci sia uno scontro tra religioni. Non da ultimo che secondo noi, anche se non era una parola, chiuderei su 35 euro. è stata un po' una provocazione che ci siamo lanciati, cioè sul costo della migrazione e su come questa economicizzazione, ora non entro nel particolare, ma proprio il tema dell'economicizzazione della migrazione abbia spostato completamente il linguaggio sulle migrazioni dal tema dell'accoglienza e dei diritti ha invece il tema quanto mi costa che è una rivoluzione completamente non opposta anche ai nostri principi costituzionali. Io ringrazio il mio gruppo. Grazie Stefano, è estremamente esaustivo, moltissimi spunti per riflettere e soprattutto mi interessa, ma insomma un po' sono viziata in questo senso, il tema dei valori, come sono stati utilizzati finora per dividere e come invece ci potrebbe essere spazio per utilizzarli, per unire, per capire che facendo leva sui valori che sono a cuore dei nostri interlocutori, probabilmente e mostrando quanto sono spesso anche in simmetria, in sovrapposizione con i nostri valori, potremmo creare forse una comunicazione più di accoglienza. Ora, siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, ma io ci tengo moltissimo a introdurvi i prossimi interventi. A cerchio, come abbiamo chiuso le sintesi con Stefano, riapriamo con Stefano stesso anche il momento degli interventi. Permettetemi di presentarvelo brevemente, perché Stefano ha un curriculum di tutto rispetto e che vale la pena di accennare quantomeno brevemente. È romano di nascita, ma ci tiene a dire che è latinoamericano di adozione e quindi siamo tutti un po' migranti, come ci diciamo spesso. Ha collaborato con moltissime delle più grandi ONG di sviluppo ed emergenza, così come anche con il Sistema delle Nazioni Unite ed è stato vice direttore in Italia del WFP, quindi del World Food Program. Ha collaborato anche con Amnesty International in diversi progetti, fino ad arrivare anche alla direzione presso la sezione argentina di Amnesty International e fa parte del comitato di gestione di progetto Mondomlal e sette anni fa ha fondato una società che si occupa di Ethic Design, che è molto interessante, che si chiama B4Social. È docente in molti atenei italiani e internazionali. Se volete approfondire il suo lavoro troverete una serie di pubblicazioni a sua firma, sia sui temi della tutela dei diritti umani che di metodologie educative in Italia e all'estero, particolarmente inerente anche a quanto stiamo discutendo oggi. Lascio la parola a Stefano che ci parlerà di fake news e di strumenti per migliorare la comunicazione proprio tra le persone nei social. Grazie Stefano, a te la parola. Grazie, grazie Tana. Ecco, superata la prima parte che io arrossisco tempo, è una parte biografica, a volte mi spengo direttamente. Però quello che vorrei fare con voi è cercare di essere molto pragmatico anche per restare nei tempi che ci siamo dati. Mi confermate che grossomodo con i ritardi? Comunque siamo in 15-20 minuti, giusto Tana? Perfetto. Sono due temi che si sovrappongono. Il tema delle fake news e il tema della narrazione delle migrazioni e la narrazione dell'immigrazione, soprattutto come si connette con le fake news. Io quello che vorrei fare oggi, è molto piccolo l'obiettivo che mi sono dato, è aprire, accendere un faro su una deriva, secondo me, di questo tipo di comunicazione. non vuole essere la spiegazione in assoluto di tutto il sistema, ma sicuramente una deriva che io trovo preoccupante da una parte, ma che ci spinge, in qualche modo invece, a trovare una strumentistica. Ecco, uno degli strumenti di cui oggi ci possiamo dotare. Di tanto tema fake news, solo per inquadrarlo, le fake news, come ben sapete e potete immaginare, non sono assolutamente un fenomeno moderno, anzi, penso che facciano parte della narrazione dell'uomo, in qualche modo. Qual è la novità delle fake news? E che, ovviamente, come potete immaginare, in un momento di comunicazione istantanea e globale, la verifica, la possibilità di verificare una notizia diventa un po' più sfumata. Significa che poi alla fine, un po' come è stato detto da uno dei gruppi che mi ha preceduto, se una notizia esiste su Google, allora è vera. Questo cambia, ovviamente, il fenomeno delle fake news, creando un mondo dove esiste un principio di validazione, il principio di valutazione che si trovi su internet. Ecco, questo mondo delle fake news, però, dico da subito, io facendo tanta formazione, spesso alle insegnanti e gli insegnanti, e quando ci riesco, pre-pandemia soprattutto, cerco di andare in aula direttamente con i ragazzi e le ragazze. Il male ha il suo farmaco, perché se è vero che il tema delle fake news, oggi, è un tema tipicamente della comunicazione digitale, è anche vero che il suo antidoto è nella comunicazione digitale. Nel senso, mentre una notizia non vera, vent'anni fa, per essere verificata, è vero che viaggiava a una velocità più bassa, ma è anche vero che per verificarla avevamo bisogno di più passaggi. Oggi, il vero passaggio è la buona volontà. Così come digito per Google, uso Google per ricercare una notizia, posso utilizzare lo stesso identico strumento per andarla a validare o meno, e vedere cosa posso trovare su quella notizia. Guardate, questa, anche se sembra ovviamente la scoperta dell'acqua calda, quando la racconto ai ragazzi e alle ragazze nelle classi, mi guardano con due occhi sbarrati. Proprio perché questa doppia procedura di validazione per assurdo non ce l'ho mai pensato. Ecco, allora attenzione, perché io adesso entrerò nel tema delle fake news con la narrazione dei migranti, però già vi dico da subito che oggi è una lotta che si può combattere, si deve combattere, e anzi è una trincea che piano piano in qualche modo dobbiamo cominciare a spostare per badagnare terreno. Proprio per questo, quello che mi interessa oggi è ripartire da una definizione, dalla definizione data dal Consiglio d'Europa sugli hate speech, sui discorsi d'odio, ma non tanto per parlare di discorsi d'odio, è per farvi notare due parolini, tre verbi effettivamente che si connettono fortemente con il sistema oggi della comunicazione digitale fake news e migranti. Vado a condividere lo schermo. Come vedete, questa è la definizione di discorso d'odio. Vi ho sottolineato tre verbi, fomentare, promuovere e giustificare. Perché? Perché potremmo aprire un lungo dibattito su che cosa possa significare fomentare, promuovere e giustificare l'odio raziale, la xenofobia, ma quasi sempre abbiamo ben chiaro quale possano essere gli strumenti e quale possono essere i discorsi dell'odio raziale. Io ho cercato di mettermi nella soluzione più difficile, dove fomentare, promuovere e giustificare spesso viene fatto in una maniera più sottile e soprattutto si nutre di una riproduzione per assurdo anche involontaria. E andiamo in particolare a vedere alcune cose. Prendiamo un esempio. Probabilmente qualcuno di voi avrà già visto questo post. Questo è un post che ha ricevuto negli anni dal 2018 scusate al 2020 circa solo in Italia circa 5 milioni di interazioni. Interazioni intendo da reposting su il dato è di Instagram e di Facebook insieme. Quindi di reposting di interazione con like o quant'altro. La domanda che io pongo è ovviamente perdono i documenti ma cellulari arrivano in perfetto condizioni. Questo se andate a vedere questa è una fake news nel senso che la foto non è minimamente collegata al la migrazione in Italia ma quello che a me stupisce è che questa tipo cioè ricondividere soprattutto in giovane età un post del genere significa fomentare l'odio razziale significa andare a lavorare a favore del linguaggio contro la migrazione allora se per noi tutti quelli che siamo qua è ovvio che possa essere certo diventa molto più sfumato nel momento in cui ho inserito questo post in decine di classi delle scuole superiori soprattutto di due regioni fatto questa questa analisi in Lombardia e in in Veneto in particolare Verona e Vicenza molte delle del dei reposting cioè molte delle interazioni che i ragazzi e le ragazze avevano su questo post non erano strettamente legate al fatto che ci fosse un giudizio di valore almeno esplicito ma semplicemente la loro interazione era è evidente non si ponevano minimamente la domanda cellulare perché come non c'era un livello di 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 cercare un dei contenuti rispetto a questa immagine questa e questa scritta ma semplicemente era una valutazione della realtà e allora lì mi sono posto una domanda ma se io vado a prendere delle giovanissimi generazioni che danno in qualche modo per scontato che questo possa essere riprodotto anzi loro stessi diventano l'ingradaggio di questa riproduzione forse quando parlo di fomentare io Stefano Protesi mi stavo concentrato sul tema sbagliato fomentare i discorsi d'odio se noi li prendiamo così è il discorso del Ku Klux Klan spesso oggi nella comunicazione digitale il fomentare il discorso d'odio ha come unus questo tipo di comunicazione e facciamo un ulteriore salto in avanti questo allora calcolare che questo invece ha raggiunto circa poco più di due milioni di interazioni questo questo post ma quando sei un clandestino attenzione ovviamente alle parole appena sbarcata a Lampedusa perché si fugge dalla guerra dalla fame dagli anabolizzanti dal rinnovo mensile della palestra in questo caso anche questa è una chiamiamola fake news cioè è semplicemente una scritta su un'immagine che non ha nulla a che vedere con degli arrivi a Lampedusa ma siamo in Australia e in questo caso è stata fatta una retata degli arresti per una partita di anabolizzanti in entrata in Australia con tutti questi questi post li potete trovare tranquillamente in bufale.net in altri siti che fanno il checking sulle sulle tech news perché questa secondo me diventa ulteriormente più interessante per il nostro lavoro perché nel momento in cui sono andata a inserire questo post all'interno di quella classe quello che mi sono accorto è che questo post avrebbe avuto un numero di interazioni notevolmente più alte del quello precedente ma le motivazioni erano bilanciatissime verso la risata cioè molti dei ragazzi e delle ragazze che mi dicevano ma vai lo ricondividere ma perché perché è evidentemente una battuta attenzione non che sia vero o falso non che sia ma che sia una battuta ecco allora attenzione perché si aggiunge un altro pezzettino oggi l'humus dei discorsi d'odio circolano soprattutto attraverso immagini di finta tra virgolette ironia ma questo allora significa promuovere certo che significa promuovere ma quanta inconsapevolezza o scarsa consapevolezza c'è perché io batto molto su questo discorso di consapevolezza o meno perché se c'è uno spazio di intervento che noi siamo chiamati noi cooperiamo nel mondo del linguaggio oltre che della formazione siamo chiamati a fare e proviamo ad andare ad agire qui cioè andare ad agire dove si stanno per formare quei luoghi comuni che poi daranno vita saranno i mattoni del discorso d'odio ed ancora non potevo non mettere questa fatto storia finita sui manuali nell'anniversario delle Martinelle lo scoppio nella nella miniera in Belgio nel 1956 e questo l'opposto dell'epoca Laura Bondrini di governo la risposta di questo diego centrico ma ti rendi conto di quello che dici è molto molto difficile non insultarti con questo gioco di immagini il gioco di immagini dove gli italiani o presunti tali perché questi due non sono non c'è un checking chiaro di italiani che quando viaggiavano facevano i migranti e soffrivano ma lavoravano e invece probabilmente l'intuizione che ci sono dei migranti in Italia che sono all'hotel o al bar o non far nulla anche qui lavoro fatto sulle classi e di analisi di quanto la giusta posizione di immagini buchi molto di più buchi nel senso sia molto più penetrante che non è invece un discorso strettamente legato ai contenuti narrativi io proprio per questo ad esempio faccio fare un giochino di solito ai ragazzi e alle ragazze e cambio io le immagini tenendo gli stessi post uguale uguale e al posto delle due foto in bianco e nero metto una foto in bianco e nero di un noto italiano al capone e sotto al posto delle due foto a colori metto un lavorante in un campo di pomodori e lavoro con i ragazzi e con le ragazze su come quel messaggio di immagini sia diverso ecco con enorme stupore continuo a dire dopo 15 anni che lavoro sono 20 anni che lavoro in formazione su queste tematiche continuo a vedere negli occhi dei ragazzi e delle ragazze una previa disattenzione a quell'immagine un dare per vero quello che avevano visto e un porsi la domanda solo nel momento in cui li si pone davanti a uno straniamento a farsi una domanda in più rispetto a quello che abbiamo visto e voglio concludere per poi riaprire la discussione su questi post allora quello che vedete a sinistra sono esempi tipici di interazione di discorsi d'odio per immagini che vediamo nei nostri social quello a destra invece forse a qualcuno di voi non dirà nulla a destra si chiama Pepe De Frog o forse a qualcuno dirà qualcosa perché Pepe De Frog è stato poi preso da Trump nella nella campagna elettorale della della presidenza Pepe De Frog è diventato il meme in assoluto dei discorsi d'odio a livello internazionale di fatto non lo era era un un personaggio di un fumetto che però è stato trasformato preso e trasformato da una piattaforma che si chiama 4 Chain e questa piattaforma mi ha tirato fuori quello che vediamo in questo momento cioè l'immagine della risata se mi fate se mi passate il termine è satirica anche se di satira qui non c'è assolutamente nulla e che in questo momento popola social network perché questa perché questa carrellata questa carrellata per dire fondamentalmente tre cose oggi il linguaggio sui migranti rispetto alle notizie false o tendenzialmente false è addirittura evoluto cioè siamo in una seconda fase non è tanto la fase del della necessità di giustificare alcuni comportamenti vi faccio un esempio ci rubano il lavoro e noi fino a dieci anni fa che cosa rispondevamo prendevamo i numeri portavamo i numeri facciamo ma guardate non è proprio così no oppure vengono qua e ci prendono non pagano tasse e allora noi prendevamo i numeri e gli dicevamo ma guardate non è tutto così e potrei andare avanti i numeri per noi operatori erano delle cose necessarie ecco questo livello di linguaggio quasi autoevidente dove passa tutto per una battuta oggi ha tolto molte armi a noi operatori e crea un humus continuo a dire autoevidente cioè non ha bisogno di giustificazioni con cui noi ci dobbiamo confrontare e che noi dobbiamo assolutamente sconfiggere perché è su questo humus che poi si crea l'utilizzo quotidiano dello stereotipo e quindi si innesta il discorso d'odio fino al crimine d'odio la seconda cosa è la rapidità di diffusione attraverso qualsiasi mezzo di riproduzione il meme oggi è il vero discorso d'odio mi piacerebbe stiamo con un gruppo di ricercatori stiamo cercando di fare uno studio molto attento sui meme d'odio perché sono quelli che in questo momento vengono utilizzati maggiormente soprattutto in fasce da molto molto basse e per molto basse stiamo parlando di gli ultimi anni delle scuole elementari della scuola primaria tanto più questo l'abbiamo anche sto facendo uno studio su alcune piattaforme di gaming per scuole elementari bene cito una roblox ad esempio per chi ha figli più piccoli può essere anche conosciuta dove si stanno osservando stiamo osservando dei fenomeni dal bullismo a veri e propri discorsi d'odio e di marginazione anche sulla piattaforma quindi attenzione a questa discesa dell'età e da ultimo invece il tema della trasversalità cioè per assurdo e qua non mi voglio contraddire con quello che abbiamo detto prima che giustamente un gruppo diceva la forte polarizzazione la forte polarizzazione è assolutamente vera nel senso la notiamo tutti i giorni la trasversalità però è su chi involontariamente più o meno riproduce questo tipo di discorso d'odio attraverso le immagini cioè ci ritroviamo sempre più spesso persone che non metteremmo chiaramente in un contenitore di odiatori passandemi il termine o chiaramente come razzisti ma che dietro quella risata fanno continuano ad essere un ingranaggio di riproduzione di quel discorso d'odio ecco questo a me preoccupa molto di più perché a quel punto non posso neanche più dire individuare chi è chiaramente il mio moltiplicatore è quel gruppo estremista è quel tipo di persona che ha una certa visione del mondo per assurdo questo tipo di discorso d'odio è molto più trasversale ci ritroviamo più o meno vicino persone che anche solo una volta nella loro vita si sono trovati ad essere in granaggio di riproduzione che cosa fare e chiudo per stare in esempio due consigli do a me stesso però il primo consiglio è quello di lavorare sui piani semantici cioè sui piani significati a tutti i livelli a partire dalla immagine cominciamo a comunicare che l'immagine va letta non va subita e questo lavoro sia educativo con le più giovani generazioni sia autoeducativo e qua me lo dico proprio a me prima giustamente qualcuno parlava di autorappresentazione autorepresentazione dello straniero quanto è importante il lavoro sull'autorappresentazione sono stato straniero tanti anni io ma da europeo in latinoamerica quindi con una situazione molto molto diversa ma il tema dell'autorappresentazione in qualche modo l'ho vissuto io sulla mia pelle perché al contrario io mi sentivo quello ricco che stava andando sui progetti di sviluppo secondo consiglio che mi do invece cerchiamo di osservare le giovanissime generazioni ma giovanissime veramente nel senso che giustamente Tana mi sembra che prima lo sottolineava eravamo convinti questo io ero convinto 10-15 anni fa che bastava aspettare le seconde terze generazioni e io ero convinto in una maniera molto positiva che le generazioni avrebbero risolto alcuni problemi perché perché nelle scuole io mi ritrovavo ragazzini e ragazzine che non conoscevano altro che il quartiere di Roma dove erano cresciuti al di là che poi i genitori provenissero dal Senegal o dall'Ecuador oppure il tema di lingua ragazzini e ragazzine che per assurdo non parlavano più lo spagnolo faccio esempio sul spagnolo perché poi lavoro sulle comunità latinoamericane non conoscevano più lo spagnolo ma parlavano un perfetto romano veronese o vicentino il tema purtroppo che mi sono accorto è che il passaggio generazionale ha solo peggiorato la situazione cioè si è ulteriormente più stratificato quindi oggi siamo addirittura ad una terza generazione dei bambini piccolissimi dove possiamo andare ad osservare le stesse identiche problematiche ma con linguaggio diverso con linguaggi diversi quindi ecco l'altro consiglio che mi do è abbassare lo sguardo cioè guardare più in basso ma proprio come statura andare a prendere i giovanissimi e lavorare su quegli stereotipi e su quelle autorappresentazioni o su quei linguaggi e quindi sugli stereotipi all'interno dei linguaggi che vengono comunque accettati in una maniera critica mi chiedo scusa se ho preso qualche minuto in più ringrazio gli organizzatori grazie mille Stefano io ho accolto volentieri questo minuto in più perché erano tutti elementi estremamente preziosi anche perché tra chi ti ha ascoltato ci sono molti educatori insegnanti e quindi credo che queste indicazioni che tu hai dato siano estremamente utili e ci hai testimoniato il fatto di essere una di quelle persone ponte di cui tanto si chiedeva l'intervento anche nelle società ponte con le nuove generazioni e l'importanza proprio di ragionare con i più giovani che anche nel mio gruppo si diceva a volte inconsapevolmente senza fare un ragionamento in più si ritrovano ad essere effetti moltiplicatori di un discorso discriminante ci sarebbe tantissimo da dire da chiederti chiederò il tuo indirizzo di posta elettronica però direi non so se datemi conforto anche Mattia Rocco e Andrea su questo se vogliamo aprire già da subito la conversazione oppure se passare al prossimo intervento e poi fare un tutt'uno di dialogo rispetto agli stimoli che sono arrivati rispetto ai tempi Allora forse no dico io no ma forse sarebbe bene fare il prossimo intervento e una discussione finale perfetto come si dice in inglese great minds think alike quindi abbiamo avuto lo stesso tipo sì sì assolutamente benissimo grazie Mattia e quindi a questo punto ho il grandissimo piacere di introdurre Grazia Analetto di Lunaria Grazia Analetto è un attivista antirazzista da moltissimo tempo è stata presidente di Lunaria dal 2010 al 2018 e coportavoce della campagna Sbilanciamoci che ha avuto vita fino al 2018 nel 2011 ha ideato il sito cronache di ordinario razzismo e oggi coordina l'area migrazioni e lotta al razzismo di Lunaria ha curato anche lei moltissime pubblicazioni che potrete trovare con la con la sua firma e questa sera ci presenterà i principali risultati che sono stati raggiunti attraverso questo osservatorio sul razzismo e anche una riflessione sulle politiche e le possibili azioni da fare sia a livello sociale che collettivo per cambiare il linguaggio e la narrazione quindi ringrazio anticipatamente grazia e le scusate il gioco di parole e lascio la parola grazie se ci sei batti un colpo il microfono forse è spento io non la vedo quindi si ha il microfono è privato ha il microfono spento eccoci scusa ok perfetto stavo cercando di condividere lo schermo ma sono entrata in confusione allora innanzitutto grazie e ho trovato veramente molto interessante alcune cose che ci ha raccontato Stefano noi tra l'altro tra le varie cose che abbiamo fatto proprio nell'ultimo anno c'è stata anche non proprio l'anno ideale ma c'è stata la scelta di aprire una sorta di sportello online e in teoria avrebbe dovuto anche essere offline di sportello contro il razzismo proprio perché abbiamo pensato che ci sia bisogno di dare anche dei punti di riferimento e di ascolto alle persone che subiscono discriminazione del razzismo lo dico perché fra le segnalazioni che ci sono attivate ci sono state esattamente due segnalazioni da giovanissimi che hanno subito delle offese nelle piattaforme di giochi online e quindi ci hanno chiesto supporto ovviamente insomma un ambito molto complicato da affrontare quindi nome di lungo ma per dire che effettivamente abbiamo anche noi riscontrato questo questo problema che è enorme ora io avevo preparato diciamo delle slide se riesco vi farò vedere qualcosa però forse credo che sia utile in realtà seguire un po' il filo logico di questa serata e quindi soffermarmi su alcuni punti chiave che mi sembra importante diciamo mettere in evidenza allora il primo punto riguarda sicuramente il tema della polarizzazione e delle diverse forme che il peso delle parole può assumere nel senso che non tutto è hate speech ma forse l'hate speech è solo una delle le forme del lessico violento alle quali noi dobbiamo prestare attenzione anche proprio per tutte le cose che ci raccontava anche Stefano adesso quello che voglio dire è che probabilmente il tema con cui noi dobbiamo fare i conti è quello delle diverse dimensioni che il dibattito pubblico assume quando parla di migrazioni facendo quindi riferimento non solo alle forme più esplicite e violente di stigmatizzazione ma anche a quelle forme che sono meno esplicite ma che probabilmente proprio perché sono meno esplicite riescono a trovare una maggiore condivisione ed è quello che forse è successo esattamente negli ultimi anni e dall'altra parte l'altro elemento diciamo a cui prestare sicuramente attenzione è quello riferito a quali sono poi gli attori chiave che contribuiscono a fare in modo che il dibattito pubblico sulle migrazioni si prenda una direzione o un'altra perché se è vero che le nuove tecnologie hanno trasformato completamente le modalità di comunicazione di massa dall'altra parte non è vero che nella rete siamo tutti uguali è una eguaglianza assolutamente direi diciamo apparente ma non effettivamente reale non entro nel merito diciamo del concreto funzionamento ad esempio dei social network ma che sappiamo benissimo ormai ne parliamo da tempo che la comunicazione non è assolutamente orizzontale che nella rete esistono delle nicchie e siamo tutti prevalentemente interni a delle nicchie ragion per cui fare la cosa di cui parlava Stefano è particolarmente complicato laddove si voglia diciamo usare la rete ad esempio per contrastare le fake news e dall'altra parte usare la rete anche ad esempio per esprimere solidarietà nei confronti di chi dal linguaggio stile è direttamente colpito l'attenzione che appunto io riprenderei diciamo anche le parole che abbiamo usato diciamo nei gruppi di lavoro perché queste parole sono assolutamente esemplari perché individuano alcune degli argomenti chiave che sono stati al centro del dibattito pubblico nel nostro paese non certo da ora quello che probabilmente è cambiato rispetto a molti anni fa è che l'ostentazione del linguaggio violento ha aumentato il proprio consenso e quindi ciò che una volta era diciamo socialmente considerato illegittimo oggi e invece tende a trovare una legittimità sociale non parlo soltanto e non tanto di quella legale ma io credo che il grande problema che abbiamo sia un problema di carattere culturale e che quindi essendo questo un problema di carattere culturale debba essere affrontato ai diversi livelli possibilmente in modo coordinato conoscendo davvero bene tutte le diverse forme che il dibattito pubblico distorto sulle migrazioni assume che vanno dall'utilizzo di lessico improprio e non corretto da un lato fino alla vera istrigazione all'odio ehm conoscendo quindi tutte le diverse forme e cercando di individuare sia a livello dell'utilizzo della comunicazione ma anche soprattutto ad altri livelli degli antidoni degli antidoti e qui ecco forse diciamo mh anche in base al lavoro che noi abbiamo provato a fare in tutti questi anni siamo in qualche modo giunti alla conclusione che la risposta al linguaggio violento la risposta al messaggio stigmatizzante non possa consistere soltanto nella in una risposta di comunicazione e quindi e questo vale anche per diciamo la violenza online ma appunto debba necessariamente essere accompagnata da una serie di altre azioni che debbono investire le diverse dimensioni della vita sociale quindi in primo luogo il ruolo della politica perché qui insomma ci sono anche diversi studi cioè è possibile individuare anche delle fluttuazioni del discorso pubblico che coincidono anche con certi momenti della vita politica nel nostro paese ovviamente non possiamo diciamo parlare di automatismi perché poi nel frattempo la storia sedimenta quindi non necessariamente se ad esempio cambia una maggioranza di governo le cose tornano esattamente al punto di prima tutt'altro però è vero che sicuramente è stata analizzata in qualche modo la coincidenza esistente tra una polarizzazione maggiore del dibattito pubblico sulle migrazioni e gli indirizzi e gli stili anche di comunicazione adottati indirizzi politici scusate e gli stili di comunicazione adottati sicuramente da alcuni governi e poi anche magari in secondo luogo a livello parlamentare quindi il ruolo della politica sicuramente l'altro elemento che mi sembra sia emerso sia nel lavoro di gruppo ma anche nell'intervento di Stefano l'importanza del ruolo che differia in senso ampio di sensibilizzazione sui diritti rivolte a tutti ma soprattutto alle giovani generazioni e quindi un lavoro molto molto profondo che sicuramente tutti dovremmo ripensare anche pensando all'intervento per esempio a livello educativo che è importantissimo pensando sia ai ragazzi ma pensando probabilmente anche ai docenti perché ovviamente i giovani bambini giovani vivono in un contesto probabilmente la rappresentazione dei diversi fenomeni che tendono diciamo a fare propria è sicuramente condizionata anche dal contesto esterno mi era stato chiesto noi appunto vorrei spiegare un attimo che facciamo un lavoro appunto di abbiamo iniziato a fare un lavoro sistematico di racconto e osservazione del razzismo nel nostro paese abbiamo iniziato a fare appunto in modo sistematico a partire dal 2009 poi con il sito dal 2011 semplicemente perché abbiamo cercato di contestare una delle idee che ha imperato nel nostro paese per anni che era quella sostanzialmente dell'assenza degli italiani fondamentalmente brava gente dell'assenza del razzismo nel nostro paese della trattazione dei diversi casi anche gravi che ci sono stati anche molti anni fa di razzismo nel nostro paese e semplicemente come casi isolati quindi come casi eccezionali il lavoro di monitoraggio quotidiano che abbiamo cercato di fare e continuiamo a fare è stato essenzialmente finalizzato a raggiungere un obiettivo cioè porre nel nostro paese il tema dell'esistenza del razzismo nelle diverse dimensioni in preparazione di questo incontro io non so se riuscirò a condividere con voi questa queste slide spero di riuscirci vediamo non mi consente di condividere Procco prova a fare forse da amministratore non so ho provato a condividere ma mi chiede di aprire le preferenze di sistema perché io ho dato l'accesso a tutti alla condivisione non riesco a capire perché vabbè pazienza ne facciamo a meno vi vorrei diciamo come dire proporre delle brevissime considerazioni e qualche dato ma non tanto perché noi amiamo quantificare ma semplicemente per dire che stiamo parlando di un fenomeno che ha a che vedere con la realtà del anche ha a che vedere con la realtà dell'agropontino io mi sono messa diciamo a consultare appunto il nostro il nostro archivio e avevo selezionato alcuni casi specifici legati specificamente alla dimensione dei discorsi in realtà noi abbiamo anche raccontato di molti casi avvenuti nell'agropontino che hanno associato la dimensione dell'insulto dell'offesa e della minaccia con purtroppo le violenze fisiche ci sono stati diversi casi molti dei quali avvenuti a Latina ma in alcuni casi anche diciamo nelle realtà più piccole nei comuni più piccoli ehm e vorrei ricordare in particolare un caso che è quello diciamo più recente che che abbiamo documentato che si riferisce al caso di un paracadutista che ha incontrato dei braccianti che si trovavano a lavorare nei campi a raccogliere pomodori ha iniziato a insultarli pesantemente e in quella situazione per fortuna uno dei braccianti coinvolti ha deciso di segnalare quello che era successo al commissariato e insomma alla fine c'è stata effettivamente una l'escrizione della della persona eh del paracadutista nel registro degli indacati per istigazione all'odio eh razziale e e per minaccia aggravata è una situazione questa diciamo micro mh però di casi come questi noi ne abbiamo documentati eh moltissimi ehm molti altri casi si riferiscono al ruolo della propaganda ahimè della propaganda eh politica pura eh mh in particolare diciamo eh ha avuto eh hanno avuto come protagonisti eh personaggi diciamo legati ai movimenti di estrema destra ma vi si ritrovano molte delle parole di cui abbiamo parlato all'inizio cioè sicuramente il riprendiamoci i nostri quartieri prima fondi e prima i fondani il prima quindi il noi prima noi e poi ehm gli altri ehm la eh la presenza eh alcuni striscioni appesi diciamo in alcuni comuni del territorio eh che agiscono proprio sul tema della polarizzazione l'Italia ha bisogno di figli non di unioni gay e immigrati quindi polarizzazione diretta ehm eh gli immigrati clandestini rom ubriachi baby gang continuano a farla da padrone per le strade sia nel eh senza alcun controllo eh e quindi eh i riferimenti la descrizione la narrazione dell'identificazione dell'immigrazione appunto con eh come una minaccia fondamentalmente come una minaccia e il tema eh della sicurezza ora non posso leggerli perché ci metto troppo più tempo ve li volevo solo far vedere perché danno un'idea diciamo di tutti gli argomenti che eh oggi sono stati citati eh solo per dire che eh noi con il nostro osservatorio in tutti questi anni abbiamo eh documentato eh ormai quasi ottomila casi di eh violenze verbali violenze fisiche discriminazioni e poi misura sicuramente minori danni contro priorità cose eh questo ottomila casi diciamo a livello italiano su ehm nel Lazio eh abbiamo documentato più di mille e trecento casi stiamo parlando ovviamente di un periodo lungo però stiamo parlando anche di infatti eh molto molto gravi ehm se ci riferiamo solo agli ultimi tre anni ehm i casi che abbiamo documentato sono più di milleseicento eh di cui eh duecento e sessantacinque su riguardano diciamo il territorio laziale ehm gran parte ovviamente eh riguardano Roma ma ma ci sono anche ventotto eh casi registrati a Latina e dodici nel Fresinata e li ho presi solo come diciamo area ehm maggiormente vicina a a il territorio di cui stiamo parlando questo per dire che che cosa c'è qua dentro non c'è solo l'Aid Speech perché ecco noi tendiamo diciamo a parlare di hate speech in modo molto ampio a volte eh mettendo un po' dentro tutto cioè dal diciamo dall'insulto a eh l'istigazione vera e propria a alla violenza ci sono tanti ehm livelli eh intermedi e infatti la eh definizione che appunto ha ripreso anche Stefano prima è una definizione in realtà molto particolata molto ampia ehm che in verità non facilita poi anche a livello nazionale eh per esempio la possibilità di eh eh definire con precisione eh questo 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 fenomeno ehm e anche laddove è necessario di agire a livello anche legale ehm in questo osservatorio ad esempio noi eh segnaliamo ehm sia i eh casi di eh utilizzo del lessico eh non corretto ehm sia i casi di insulto sia eh i casi e ne abbiamo avuti e ci sono state anche eh diciamo alcune pronunce dei giudici di molestia eh razzista ehm e poi ovviamente molti casi di propaganda ehm e qui eh effettivamente emerge decisamente il problema di eh la difficoltà diciamo di distinguere quanto eh un messaggio di propaganda politica è legittimo o meno soprattutto quando non utilizza eh il lessico più esplicito ad esempio io eh voglio ricordare che c'è stata una pronuncia giudiziaria che eh ovviamente in ambito civile che ha stabilito che ad esempio l'utilizzo della parola clandestini quando eh se riferita a richiedenti asilo e rifugiati accolti in un centro d'accoglienza come era il caso che era stato sollevato in quell'occasione e non è è stigmatizzante ecco questo è un caso ad esempio eh dal mio punto di vista è stata anche una pronuncia sorprendente grazie perdonami ti devo ti devo chiedere di arrivare un pochino a conclusione perdonami ehm è appunto questo è un esempio di come diciamo noi abbiamo la necessità di distinguere ecco i diversi registri per poter poi riuscire a intervenire per passare alla fine faccio solo diciamo così un elenco velocissimo in realtà noi stiamo facendo tantissimo già ora già oggi noi intendo società civile eh organizzata mh agiamo sul piano della tutela legale eh quando è necessario e negli ultimi anni ci sono state effettivamente pronunce importanti eh agiamo sul tema dell'informazione e dei diritti che è fondamentale agiamo con l'attività di monitoraggio e di osservazione e quindi anche di advocacy eh nei confronti di chi eh del legislatore eh e di chi è chiamata ad applicare le norme agiamo sul piano dell'educazione eh ai diritti umani ci sono veramente moltissime iniziative agiamo sul tema della formazione di tutti gli operatori interessati dai magistrati a anche ai giornalisti eh ci sono moltissime realtà che lavorano specificamente sulla formazione dei giornalisti ovviamente non è sufficiente ma viene fatto ehm c'è un tema a mio modo di vedere particolarmente importante che è quello dell'investimento maggiore nella creazione di spazi di socialità eh che consentano le relazioni dirette in modo trasversale mh la debolezza veniva detta prima forse proprio da ehm Sergio se non ricordo male eh è quella della frammentazione esiste nell'agropontino esiste anche i livelli più alti cioè la molteplicità di esperienze che vengono messi in campo poiché non sono coordinate non sempre riescono a fare massa critica grazie grazie infinite a te grazie e scusa se ho dovuto accompagnarti alla conclusione ma insomma è un orario stiamo chiedendo molto ai nostri partecipanti però penso a nome di tutti di poterti ringraziare per il lavoro che svolgete perché è prezioso importantissimo e trovo particolarmente importante il vostro approccio analitico è uno studio di tutti i livelli e lo spettro possibile delle narrazioni perché soltanto identificando le differenze è possibile sviluppare delle strategie che siano efficaci per ogni tipo di espressione non mi dilungo oltre perché vorrei sentire la voce dei partecipanti e raccogliere da voi anche qualche stimolo qualche commento e se non siete d'accordo anche con qualcosa che abbiamo detto quest'oggi magari anche che dirci per quale motivo quindi lascerei la parola ai partecipanti stessi cercando insomma non siate timidi e Anna perdonami c'era forse Lorenza Fusco in chat che aveva scritto qualcosa sulla piattaforma non so parlava credo che parlasse della piattaforma di gaming che aveva accennato Stefano mi riferivo soltanto a questo che come diceva Stefano bisogna scendere sempre molto di più nelle nuove generazioni fin dai piccolissimi perché avendo poi i fratelli nelle scuole elementari conoscono già queste piattaforme e quindi bevono proprio questa cultura di violenza di luoghi comuni di stereotipi ecco volevo far notare che già nella scuola dell'infanzia dove io insegno purtroppo si sente questo grazie perché effettivamente io mi sono concentrato sul discorso della scuola elementare della scuola primaria ma la scuola dell'infanzia soprattutto per rapporti di sorellanza o di fratellanza è molto legata devo dire che nelle scuole elementari stanno già partendo alcuni corsi specifici di attenzione personalmente ne sto facendo partire due su due scuole del Pigneto a Roma nel adottor Preprossimo trovo che sia veramente molto molto interessante iniziare da subito a lavorare su queste piattaforme che poi non sono altro che piccoli social network sono sistemi di comunicazione peer to peer quindi poi ci sono tutte le possibilità di interazione quindi anche quelle scudenti o discriminatori grazie Lorenza per questo commento qualcun altro tra l'altro se non sbaglio Lorenza nel nostro gruppo di lavoro sottolineava anche quanto sia importante coinvolgere gli insegnanti e non soltanto i ragazzi perché è tanto più efficace il lavoro che fai con i ragazzi quando hai degli insegnanti che riescano a poi portare avanti a fare follow up rispetto a quello che si affronta domande? credo siano tutti molto molto stanchi e comprensibilmente esatto non so allora non vorrei essere in positiva con chi ci ha ascoltato che penso insomma abbia avuto moltissimi spunti di riflessione e di quanto sia importante anche non soltanto pensare alle contronarrazioni a contrastare dei messaggi d'odio ma quanto sia importante generare nuove narrazioni quindi portare le persone anche a vivere esperienze come diceva grazie anche di prossimità che possono superare quegli ostacoli che si generano nell'isolamento purtroppo veniamo da un periodo di isolamento che credo bene non abbia fatto in nessun modo alle relazioni sociali di tutti i tipi quindi alcuni punti tanto per chiudere e per lasciarci guardiamo molto le nuove generazioni sia le nuove generazioni di chi non ha mai dovuto porsi il problema delle discriminazioni così come quelli con background migratorio che non siano portatori di quella che viene definita come portatori di una malattia ereditaria che è la migrazione ma insomma realtà diverse vedo che anche Stefano deve andare quindi vi ringrazio tutti no vedevo che stavi scusate non era per voi sono in un ufficio quindi scusate scusa tu Stefano e quindi dicevamo nuove narrazioni per le nuove generazioni tutto questo futuro di cui si fa un gran parlare nei documenti ufficiali del recovery cerchiamo di riempirlo di relazioni e di un futuro reale a livello territoriale e nei nostri scambi sociali io con questo direi che è arrivato il momento per tutti di nutrire anche lo stomaco oltre che la testa per cui vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e penso che Mattia vi darà appuntamento per la prossima il prossimo incontro grazie grazie a tutti e tutte e questa settimana facciamo doppietta quindi ci vediamo giovedì alla solita ora intanto grazie vi manderemo come al solito la mail per ricordarvi il nostro appuntamento grazie buona cena e buona sera a tutti grazie a tutti ciao 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 ciao